Il sogno Scudetta è finito già da un po', il problema è restare tra le prime quattro, che è la cosa importante per i Napoli. Però se il trend arbitrale è così, penso che sarà difficile. Ieri l'hanno fatto non solo con Napoli, ma anche con il Bologna. Hanno aiutato un po' la Roma, hanno aiutato l'India. Se gli devono dare la stella è meglio che gliela danno già adesso, così ci togliamo il pensiero. Comunque, come è andata, come è andata. Ieri ha vinto l'abito 2-0, no 3-0, 2-0. Il caccia di rigore c'è sotto, ma è al centrocampio, il fallo sull'orbotica che c'è, voglio dire. Il bar ha chiamato e ha detto, vabbè, me lo vedo io l'abito. Comunque ha vinto l'abito 2-0. In mezzo con Napoli è proprio svanita la Scudetta. Proprio, non esiste proprio. No, è perché la prima cosa, non sanno affrontare una situazione, non sanno affrontare niente. L'India è stata l'India. Speriamo di continuare nella Champions, magari, ma d'altronde l'allenatore cosa poteva fare, cosa può fare. I giochi sono belli e che fatti. E poi io, in tutta sincerità, trovo proprio uno simen diverso dall'altra stagione. Lui è l'uomo squadra, alla fine è lui l'uomo squadra, quindi io ho speranza per la Champions, il campionato è andato, ma poi l'Inter ormai è un caro armato.